Educare le ragazze a vivere in armonia con se stesse, con gli altri e con Dio, in un nuovo stile di vita, più conforme al Vangelo, che loro potranno poi trasmettere negli ambienti in cui vivono. È la missione che Papa Francesco ha affidato alle guide cattoliche rappresentate dalle delegate della Conferenza Internationale Cattolique du Guidisme, incontrate oggi in Vaticano nel cinquantesimo anniversario della conferenza delle associazioni cattoliche di scautismo femminile. Il Papa ha sottolineato che l'educazione è il mezzo per consentire alle ragazze di diventare donne attive e responsabili felici della loro fede in Cristo. Siamo in un mondo in cui si diffondono le ideologie più contrarie alla natura e al disegno di Dio sulla famiglia e sul matrimonio. Si tratta dunque di educare le ragazze non solo alla bellezza e alla grandezza della loro vocazione di donne in un rapporto giusto e differenziato tra l'uomo e la donna, ma anche ad assumere responsabilità importanti nella Chiesa e nella società. Nei paesi nei quali la donna è ancora in posizione di inferiorità o sfruttata e maltrattata, ha concluso Papa Francesco, rivolto alle guide cattoliche, voi siete chiamate a svolgere un ruolo notevole di promozione e di educazione. Grazie. Grazie. Grazie.